Cresce sempre di più la preoccupazione per l'impennata del gas e delle bollette energetiche. E se i problemi toccano da vicino cittadini e imprese, anche le pubbliche amministrazioni non sono esenti. L'autunno si preannuncia drammatico sotto il profilo dei costi, una condizione che si aggrava visto che gli enti hanno già diverse difficoltà economiche. La situazione è difficile e rischia di diventare davvero esplosiva se non arriveranno interventi immediati da parte del governo. Proprio ieri il presidente De Caro ha posto il tema, insieme al presidente dell'UPI delle province, abbiamo bisogno di una copertura di circa 350 milioni di euro. Quindi parliamo di somme importanti per non mettere a repentaglio i servizi dei comuni. Ci sono tanti comuni che non riescono ancora a chiudere i bilanci ed è una situazione che rischia di diventare veramente drammatica. Ecco perché la prima richiesta che ovviamente dovrà essere formulata al prossimo nuovo governo dovrà essere assolutamente questa. Non possiamo mettere a repentaglio i servizi e dietro i servizi non dimentichiamo che ci sono i diritti fondamentali dei cittadini. Per i cittadini il rischio concreto è che oltre a dover fronteggiare direttamente i rencari potrebbero subire anche l'aumento delle tasse e la riduzione dei servizi comunali. Nel frattempo gli enti stanno cercando anche in vista della riapertura delle scuole di programmare al meglio un piano per il risparmio energetico. Stiamo programmando adesso con gli uffici tecnici, gli interventi che rappresentino sicuramente dei comportamenti virtuosi in linea generale, ma in questo momento necessitati proprio per l'abbattimento dei costi. Non illudiamoci, non sarà sufficiente ovviamente uno schema di interventi di questo genere, c'è una necessità e dobbiamo pretenderlo che il governo dia la copertura ai comuni, perché abbiamo già famiglie e imprese in sofferenza per l'incremento ovviamente dei costi sui privati. Non possiamo assolutamente correre il rischio che ceda il sistema dei servizi dei comuni, quindi rischia di essere un dramma nel dramma e non possiamo correre questo rischio.